Siamo qui con Giuseppe Schisano, presidente Abicampagna, associazione birra della campagna e anche birraio del birrificio Sorrento. Se ci puoi parlare un po' di questo birrificio, delle sue peculiarità, delle sue birre migliori. Allora, il birrificio Sorrento nasce col mio socio Francesco Galano nel 2009. In effetti nasce prima dalla passione per fare la birra a casa come hobby, young brewer per usare un termine anglosassone. Man mano la passione ci ha preso sempre più, ci ha portato a studiare quelle che sono le materie prime della birra, dall'acqua al malto al lupolo fino ad arrivare al lievito. Le nostre creazioni sono nate col tempo e con la passione. Fin da subito, producendole in un locale sotto un agrometro, ci è venuta l'idea, anche perché viene dal background territoriale che abbiamo, di utilizzare gli agrumi e precisamente le bucce fresche del limone di Sorrento e delle arance di Sorrento nelle nostre creazioni. Così è nata subito la Sirentum, dopo varie prove, perché purtroppo il limone ha anche i lati negativi e quindi portava qualcosa di non proprio piacevolissimo nella birra inizialmente. Poi pian piano la birra si è evoluta e la nostra Sirentum è stata anche premiata nella guida Slow Food alle birre d'Italia come grande birra. Qual è la birra migliore? Le birre sono come i figli, quindi per noi sono tutte uguali. Sicuramente per le ultime nate c'è un occhio di riguardo che sono la Ligia, fatta con un blend partendo da un mosto di vino, un mosto di furore bianco della costa d'Amalfi e la Partenoma che è una Stout di 4,7 gradi fatto con le noci di Sorrento. Va bene, anche per il birrificio Sorrento, come tutti gli altri birrifici che ho intervistato già mi è venuta una gran sete, quindi io vado ad assaggiare una birra e ci vediamo più tardi. Restate sintonizzati, ciao! Grazie a tutti!